Cari amici di Top Planet, ciao da Simone Absim, siamo ai saluti natalizi, voglio fare questo video per fare gli auguri di buon Natale e buone feste bianconere a tutta la redazione di Topland Habitat Bianconero, tutti i conduttori, tutti gli esperti, i giornalisti, gli opinionisti che intervengono in trasmissione, non voglio nominarli tutti perché potrei dimenticarne qualcuno. Un saluto in particolare a Marcello Chirico, il nostro conduttore di battaglia che è sempre così disponibile per tutti noi selfisti giuventinanzi e quindi a proposito di questo un grande saluto a Delio Petrelli, il grande postman che me come tutti gli altri ci ha accolto in questa community del clan del postman, io da poco, chi da più tempo ma veramente ci troviamo benissimo e ringrazio per questa opportunità di far parte di questa community e un saluto in particolare a quello che secondo me è il miglior selfista che abbiamo che è Hermes Bianconero che sono molto felice di seguire poi anche nei suoi video sul suo canale YouTube. Niente adesso dicevo il Natale è vicino ma prima abbiamo una partita importantissima e finalmente sono finite le ghiacchiere da bar, sono finite tutte le anteprime, tutti i discorsi della vigilia, si entra in campo e cerchiamo di vincere questa partita per portare a casa questo ennesimo trofeo di cui non saremo mai sazi, non saremo mai sazi di vincere perché siamo giuventini e il primo trofeo di questa stagione 2016-2017, l'ultimo obiettivo dell'anno solare 2016 che è stato un grande anno a mio avviso ma dobbiamo sperare e credere concretamente e seriamente di poter fare, perché possiamo fare meglio nel 2017. Allora ancora auguri, buon Natale a tutti, sempre Forza Juve e buon anno Bianconero. Ciao!